Musica Amici dell'Orientine, riparte la grande stagione della mountain bike, siamo da Lonte, campionato italiano sprint, un ritorno importante, un debutto eccellente, tanti i protagonisti arrivati qui nella cittadina veneta, viviamo insieme questa intensa giornata di gara. Gruppo sportivo forestale, due motivi per essere felici, un grande debutto? Sì, diciamo che nell'ultimo mese ho fatto tantissimo in bici, è l'unica cosa che riuscivo a fare e dopo cinque mesi di completi in attività provo. Laura, sì, ci siamo. Sì, invece io ho fatto tanta corsa e oggi non vedo l'ora di ripartire, di salire in sella e di tornare alle gare, alla mia vita e alle emozioni che solo questo sport mi sa dare. Musica Musica Oh te nani, guarda che questa le bici non li mi accorciano. Ecco perché non torna. Musica 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 Siamo arrivati alla fine di questa lunga giornata per qualcuno grandi, grandissime emozioni. Sì davvero, oggi ho vinto e non me l'aspettavo, ho dato tutto, sono partita per vincere come sempre e ci sono riuscita quindi dopo questi mesi di sofferenza davvero ci voleva questa bella vittoria per ricominciare tutto. It's nice to come here and match with Jaime and the others and yeah I had a pretty good race a few mistakes but I'm enjoying Italy a lot every year, every year. Musica Musica Una bellissima ed emozionante prova qui a Lonte con il campionato italiano sprint e adesso dopo questo gustoso antipasto ci aspetta la prova a Lonte. Musica 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 Grazie a tutti.